Voci.fm, il magazine sul mondo della voce. Arriverà il prossimo 14 gennaio su Prime Video Hotel Transilvania 4. Nel nuovo film della fortunata saga d'animazione della Sony Pictures, le voci italiane di Dracula e della figlia Mevi saranno ancora una volta di Claudio Bisio e Cristiana Capotondi. Tornano anche Angelo Maggi, voce del barone Van Helsing, Davide Perino, voce del genero di Dracula Johnny, Claudia Catani, voce di Erika Van Helsing, Stefanella Marrama e Graziella Polesinanti, voci di Eunice e Vanda. Completano il cast vocale di Hotel Transilvania 4, Paolo Marchese, Luigi Ferraro, Mino Caprio, Luca Dalfabro e Mapuccio, Anita Ferraro, Sofia Fronzi, Alice Labidi.